la gente è sempre infadata, sempre incazzata sto aspettando un youtuber ma perchè arrivai sempre tardi? non lavorai stai tutto il puto dia sentato lì detrasse di una camera che ha sei? dove vai? ma perchè non arrivai in orario? non mi fatti incazzare ora sapes che? sto sperando di giocare a fortnite a fortnite come mi hai detto che sei un mamma lo vorrei a praticare e perchè non ti metti a editar un video? vamo a editar un video è vero? l'altro dia mi passaron un programma filmora 9 è bellissimo eh? anche io posso usarlo è vero? anche un gilipolle come io che fa pizza tutta la vita facendo pizza si ha puesto è perfetto mi ha editato mi ha fatto anche più bello ora vamo a vi explico come funziona vamo p'allà vediamo è molto semplice vi ho detto anche io ho arrivato eh? dove arrivo io può arrivare tutto il mondo ora le faccio un effetto special va? voy qui le doi e vediamo che mi salgo l'effetto che le faccio? questo vediamo 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 che facile è facile mira che facile eh? ora andiamo qui al via mira che grande che sono mira che facile eh? vuoi rispondere bianco e nero fai click boom pam e bianco e nero eh? avete visto che è facile o no? lo che? vuoi descargare? vuoi descargare il filtro? mira qui e si descarga eh? è facile super facile accortarvi il nome filmora 9 filmora 9 mira come è tan facile usare sto pensando di usare l'editore a queste gilipolle che è il mio sovrino è un bravo chico però un po' gilipolle lo faccio e a tomar po' il culo e io voglio editar e il prossimo che voglio usare mi voglio comprare un selfie qui è il mico che sta gravando toda la p***a che hai chi fa solo fa per tre vale? ciao bello allegria che passa signor? già è arrivato il youtubero che stavo sperando oggi sono felice tio per fine è arrivato uno piccino come poco? eh? no perchè normalmente è arrivato questo si chiama Paul Paul Ferrer questo si chiama e pensiamo male Paul Ferrer viene da Madrid è molto amico del stick ed è dal Mao l'ho tramitato l'ho tramitato lì è da Madrid sai come si fa la pizza in una pizzeria? no con massa? no si coca nel congelatore si coca e si calenta e si toma po' il culo non lo sai è una pizzeria di m***a invece è una pizzeria buona vieni che te lo spiego questa è la massa vale? questa tiene molto tempo di fermentazione non ti voglio spiegare nada perché mettere qui nella harina va? si me lavo la mano me lavo la mano me lavo la mano questo non deve entrare in tua vita si se io la llevo a la mamma pòretelo sta al revés me lavo la mano mi lavo la mano mi lavo la mano che che mi ha mandato questo tio? tirala, appoggia, non tirala appoggia deve essere lo stesso che ha fatto io mano ok, dove va? mira, lo stesso che ha fatto io mira lo stesso che ha fatto io va, spavio mi pinza non si muove tanto va, lo stesso che ha fatto io lo stesso che hai fatto va sta ugual va, spavio va, è ugual come si fa questo giro? mira, facciamo una cosa mira, bella del lunico mira a tomar por ostia, normalmente entra a tomar por ok hai visto? e la siamo oltre mira che è facile non so perché vai per Disney mira che è facile mira vai bailando vai hai entrato bailando hai entrato bailando hai entrato bailando non è lo mio non è lo mio ahahahah e la vedai sguenta che ser pizza non è facile no? è facile? no 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 una cucciolata in media di tomate vale? e ti devi che ponerla vale mira che semplice eh? tomate va e in piazza mira non devi che salire eh? una in media sì 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 bene? va poi guarda che puoi hermano hai fatto una pizza più difficile mozzarella lecce da me guarda poco pochita pochita a poco salame non peperoni pone quello che chiede sti lo che pone che chiede mira io pongo cebolla champiñones lo parto? sì sì no va a partire sì 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 va io ti ho miedo eh? mira questa la horneo io va espabila che il cliente se fa mira eh? dos dedito e patapin patapam e questo guardare l'orio va dos dedito e patapin patapam va a partire no 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 be no pala pala volvemo a empezar entra entra mui bien brà ora qui viva arriva arriva ostia non llega fa quel tamburet fa quel tamburet va vai 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 tira mui bien orre ostia tio brà qui vai? Viva qui. Tu sei raiato qui. Viva qui. Questa faccio il mio. La levanta poco a poco. La coge. La dà la volteretta. La volteretta. Viva. La cosa che va. Io credo che ci sono una scena. Alla qui, va. Alla qui. Alla qui. Alla qui. L'asci. Sì, la arriva. L'asci o dove? Alla qui dove la pochino. Non, 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 sto in aio Il mismo sito Lo sugo a salire? Però come si gira? Jolete Vabbè, 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 vabbè Vabbè, vabbè Camera, si ha puesto di pontilla Che sorire Valla mierda di pita Vabbè La tua che si sta chiamando Dime? La saco, no? No, no, la levanto Levanta Perfetto Dale la vuelta De tutti i torpes che hanno venuto Tu mi sembra che sei il migliore No, è vero La orneata solo A lo di master ho dovuto fare una mano Tu invece la 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 Ma tu quando gravi Tieno anche una camera gilipollas? Me gravo io mismo Per la camera gilipollas Questo che no Perfetto Perfetto Eh? Mira che pizze Bravo eh? Vale, sta un pochito qui... Aga bene? Ui, bene Por fin Una pintaza eh? Si, si, si Questa è la secciatura Guardate la corta tu No Ah la sua sta lì La basura eh? Dice che cocinano Tio, vabbè Eh? Bah! Perfetto 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 Comela Comela Perfetto Perfetto E' vero Hai visto il mio video? Si Voi provare No 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 Di fare si 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 ma va di fare assim non me fate incazzare che cazzo stai non me fate incazzare non me fate incazzare non mi fate incazzare non me fate incazzare non me fate incazzare ah ma non con quella faccia fai fisico fai unico non me fate incazzare come nel bain me ha gustado si si eh un dia vienes a madrid escúchame no la próxima vez vas a hacer un dia de cocinero vale de pixero no? pero en nuestra casa ya conoces a tres solo te falta uno por conocer y ya nosotros otro grande seguirme a mi y luego seguir tu canal Paul Ferrer tambien Paul Ferrer harà un video conmigo con faremo una pizza un poquito diferente un poquito rara si se acaba el video grazie a ti de aver venido de madrid andando seguime en instagram en twitter e in cazzi 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 1-1-1-1 e por la calle e por la calle ciao saluta alegría di alegría